Non ero mai venuto e volevo sempre venire, anche perché a me i cavalli li piacciono tantissimo, ma non ho mai potuto coltivare questa passione. Quindi con oggi sono venuto qua a respirare un po' il mondo dei cavalli, della fiera, ma soprattutto anche per poter vedere quello che fa anche la mia città. Perché penso che la fiera a Verona sia un elemento importante sia per l'economia, per quello che fa girare, per la gente, per lo scambio, per il turismo. Quindi mi piace un po' respirare anche l'aria che porta una fiera, oltre che la fiera a cavalli in sé.